ho fatto la foto ci c'è qualche a metto? però non dice quello che dobbiamo fare cominciamo a fare un po' di allenamento Siete 110, siete fantastici fatevi un applauso fantastici ricordiamoci il motivo perché siamo qua oggi siamo con tutti per sostenere AISM AISM che si batte per la prevenzione e la ricerca per la schelosi multipla vorrei fare un applauso a Laura vorrei ringraziare per la collaborazione ok, seguiteli ok, abbiamo l'onore di avere oggi un presente internazionale direttamente da Cagliari una di famiglia per noi ladies and gentlemen, Flavio Cojana grazie 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 per la visione!